Bentornati amici di Onero, oggi siete in compagnia di Gian Maria Tantimona con il vostro speaker. Il nostro viaggio ci fa fare la conoscenza di Alessandro Adorno, fondatore e direttore della Scuola Babilonia, scuola d'italiano aperta a tutti che ha sede a Taormina. Ben arrivato signor Adorno, ben arrivato. Grazie mille, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a voi per il gentile invito. Come nasce la storia della Scuola Babilonia che nasce nel 92 se non mi sbaglio? Sì, nel 92, reduce dai miei studi universitari a Firenze e avendo intrapreso attività di insegnante d'italiano per segnare a Firenze, che è innamorato comunque di questo mondo, che è un mondo bellissimo, un mondo fatto di persone che sono amanti della lingua e cultura italiana. Ho pensato che magari potesse essere una destinazione gradita quella della Sicilia e poi in particolare di Taormina. Grazie a tutti voi per lo spesso.